Dentro alle regole, dentro al modo che deve essere di coinvolgimento del Parlamento. Poi non c'è dubbio che la reazione che ha avuto Forza Italia e il nuovo centro-destra ci ha colpito perché riteniamo ancora che Mattarella sia una figura da un profilo istituzionale condivisibile. Quindi io spero che l'appello del Presidente sia raccolto anche in termini dell'atteggiamento che domani la quarta votazione NCD e Forza Italia terranno.